che risultano i cavalli meno seguiti al gioco. Questo sin qui l'andamento delle contrattazioni con un globale che già si avvicina ai 25.000 euro, a gioco comunque ancora aperto, i cavalli vanno a prendere posto dietro le ali del mezzo meccanico, ultima occhiata all'andamento del gioco prima di passare in presa diretta alla telecronica della corsa, resta favorito Uragano 3B 2.18 ma si è un po' avvicinata Utopia Man 2.87, tutto è pronto, va in partenza la seconda corsa di Palermo. Seconda corsa di Palermo, indigeni di due anni sulla breve distanza, a favori al gioco per il numero 9 Uragano 3B, si va allo stacco che avviene in questo istante e che vede la buona partenza di Utopia Crick che scavalca Ulrich, numero 2 per linee esterne Utopia Man, la contro favorita al gioco che prova a puntare in avanti, più indietro comunque sta avvenendo abbastanza bene il numero 9 di Uragano 3B che è filtrato dalla seconda fila e si sistema in quarta posizione. E col numero 1 vediamo anche Uvetta Getty. I cavalli affrontano la prima drittura con Utopia Man che va a chiedere strada alla capofila Utopia Crick che dopo qualche attentennamento comunque gli dà strada e così dopo 600 metri di corsa Utopia Man è al comando, comunque si è andati abbastanza svelti, io ho 45,9 da 1,16,5 per i primi 600 metri, prova a prendere in mano Andrea Buzitta e Biagelo Verde con Uragano 3B non aspetta ancora e viene subito per linee esterne lasciando la quarta posizione e profilandosi adesso ai fianchi di Utopia Crick che segue la capofila Utopia Man. Progredisce ancora per linee esterne Uragano 3B e prova a prendere sotto tilo la capofila Utopia Man che comunque ha raggiunto il primo chilometro in 1,18,1 quindi abbastanza sollecito per la categoria ma non basta ad arginare l'avanzata di Uragano 3B che prima ancora dell'imbocco dell'ultima curva dà l'impressione di poter passare però vedete come sta rientrando Utopia Man che sembrava superata qualche problema di meccanica probabilmente ha indotto Biagelo Verde a prendere con prudenza l'imbocco della curva dietro i due resta Utopia Crick più indietro tutti gli altri adesso in retta d'arrivo la dritta potrebbe dare una mano alla meccanica di Uragano 3B che piano piano torna a prendere la meglio sulla capofila Utopia Man è nulla più muta vince dunque chiaramente il numero 9 di Uragano 3B nei confronti di Utopia Man mentre probabilmente Utopia Crick ha conservato il terzo posto vittoria davvero meritata per Uragano 3B sul mio cronometro un tempo attorno all'1,17,7 per il vincitore alla seconda vittoria consecutiva i colori della super fantastica SAS il training di Francesca Croce la guida illustre di Biagelo Verde quota di 2,12 al totalizzatore Utopia Man ha fatto quello che ha potuto e ha portato a casa un buon secondo posto e probabilmente anche il nuovo record in carriera buona anche la performance di Utopia Crick che è andata in testa ha dato strada a Utopia Man poi ha seguito i due più attesi e vediamo se sembrerebbe di sì di misura dovrebbe aver conservato ma guardate è davvero un arrivo strettissimo con il numero 8 di Ultrasonic Font direi dunque 9 al primo posto, 5 al secondo foto molto stretta fra 4 e 8 per il terzo posto questo l'ordine d'arrivo ancora ufficioso della seconda corsa di Palermo